Nascita e morte della Massaia di Paola Masino uscì sotto la peggiore delle stelle possibili anche perché la scrittrice, che aveva già dato prove di sé assai controverse e discusse sotto il regime fascista e che era considerata un'autrice poco gradita ai meccanismi della propaganda di quell'epoca si trovò a doversi confrontare con tutta una serie di temi estremamente spinosi in primo luogo il libro uscì prima su una rivista che si chiamava Tempo Illustrato che era una rivista di grandissima diffusione e già stonò questo romanzo così ostico, così cattivo che trattava di una donna irriducibile che cresce dentro una sorta di baule, dentro una sporcizia mitologica e che poi accetta per il recatto della madre di farsi sposa di un uomo più anziano e quindi viene ripulita di tutte queste sue impurità e trasformata in una perfetta bambola da esposizione secondo quello che sarebbe stato il criterio della donna nel regime fascista fattrice, creatrice di figli, creatrice di uomini che avrebbero fatto imperi ma mai con una propria autorevolezza, mai con una propria identità Nascita e morte della Massaia quindi subisce numerose censure l'editore è Bonpiani, il quale interviene molto con Paolo Amasino chiedendole di temperare le sue espressioni e già era accaduto nel romanzo precedente Periferia Periferia è il primo libro italiano, e siamo negli anni 30 che dà spazio ai bambini l'idea è semplice ma è geniale siamo in una periferia a Roma il quartiere viene chiamato quartiere pannosa ma in realtà sarebbe più o meno il quartiere di Piazza Capri verso il quartiere Trieste e i bambini raccontano quelli che sono gli scenari agghiaccianti della vita dei loro genitori dei genitori evidentemente fascisti, consenzianti al regime i quali non vengono nemmeno evocati se non per il fatto che picchiano i bambini li riempiono di schiaffi, li bastonano addirittura c'è il figlio del portiere che è diventato semiceco perché il padre lo picchia con un bastone in testa e c'è quindi un paesaggio umano che questi bambini raccontano che è assolutamente agghiacciante, orribile in cui non si dà altro che una serie di ricatti da parte di persone che evidentemente aderiscono a un criterio di vita che potremmo chiamare macista che non viene chiamato fascista perché altrimenti la censura già poco consona a queste idee della Masino non l'avrebbe proprio fatta pubblicare ma a tutti gli effetti da questo romanzo da periferia, siamo nel 1933 e la Masino viene presa di punta dalla stampa fascista accusata di essere una scribacchina disfattista, di avere tutta una serie di antipatie di essere troppo internazionale di non sostenere in una parola le scelte del regime fascista quindi Nascete e Morte e la Massaia porta questa visione estremamente critica di una realtà basata su ruoli di genere tradizionali maschi, femmine, bambini e adulti all'estremo e il romanzo quindi che è già censurato preventivamente poi affronta tutti i disastri della guerra perché ormai composto in bozze si trova a essere bruciato tutte le copie già stampate dentro la tipografia che utilizzava Bonpiani a Milano durante un bombardamento americano nel 1944 infine il manoscritto viene ricostruito con molta fatica dall'autrice la quale si ricordava in parte il suo manoscritto originale in parte però aveva preso dal manoscritto censurato che l'autorità le aveva imposto di modificare fortemente e scrive nella postfazione al libro che era stato a quel punto fortemente voluto da Bonpiani di cui l'autrice si dichiarava abbastanza a tutti gli effetti lontana che l'opera che ne era nata era una somma di queste due versioni tra la sua originale molto più aggressiva molto più violenta e quella seguente Nascita e morte della Massaia è per antonomasia il libro nella prima metà del Novecento italiano che più mette in discussione tutti i ruoli femminili canonici Massaia è un termine per noi oggi in Italia desueto eccentrico mentre nel 1941 quando la Masino comincia a scriverlo è assolutamente un termine che la propaganda fascista usa per definire quello che la donna deve fare stare a casa fare i figli occuparsi della cucina occuparsi della tavola sapersi ingegnare in tutte le attività pratiche dal 1940 esistono gli orti di guerra che debbono fare le Massaie che debbono produrre verdura per la famiglia vicino ai territori dei palazzi sovente con risultati a sei scarsi e dall'altra parte le signore Massaie debbono anche cucire fare attività che vogliono dire riprendere vestiti in un momento in cui c'è una penuria enorme di materia prima anche perché notoriamente l'Italia con l'embargo dopo l'attacco all'Etiopia comincia ad avere sempre meno materiali tessili da cui l'invenzione della famosissima snia viscosa italiana del gruppo Marinotti che porta al famoso la Nital una lana sintetica artificiale venduta dal regime come ritrovato principale per le Massaie per tenere caldi i loro bambini che avevano freddo essendoci anche scarsità di riscaldamento nelle case e quant'altro e che invece ovviamente durava assai poco essendo di materiale scadente tutti questi elementi la Nital le scarpe di cartone per i soldati che andavano nella campagna di Russia la certonaria di questo regime che credeva di poter fare almeno delle risorse del mondo e che si trovò di fronte a un impasse è lo scenario su cui si incide la crudeltà di Paola Masino che in nascita e morte la Massaia ambienta la sua rappresentazione in una casa borghese in cui questa ragazzetta che a tutti gli effetti non vuole crescere non vuole fare la ragazza dal marito non vuole esporsi nel mercato delle bestie matrimoniale come si racconta in una pagina del libro è una figura assolutamente rivoltosa anche perché la Massaia sta dentro questo suo baule sporchissima coperta di fango di polvere di ragnatele e si trasforma se stessa in un oggetto dice il romanzo che una volta all'anno le serventi della casa la tolgono dal baule la spolverano le danno l'olio alle giunture le danno la cera in faccia verificano che la pelle non si sia crepata finché c'è un evento topico perché la madre dopo i catti insistiti dopo attacchi di ogni tipo alla figlia la convince impietosendola esibendosi in un atto di umiliazione assoluto a partecipare a quello che era poi l'atto principale per ogni signorina di buona famiglia cioè la partecipazione al ballo della debuttante la ballo naturalmente a cui la ragazza si può esporre solo dopo aver fatto un lavacro rituale 18 bagni in cui ogni volta perde un colore diverso di sporco immondizia e sporcizia di cui era ricoperta fino a essere finalmente l'ideale della ragazza bambola che il regime voleva il mondo il mondo di cui scrive Paola Masino più o meno è uguale a quello di una scrittrice popolarissima nel ventennio e popolarissima anche nell'epoca della democrazia cristiana seguente Liala al secolo Amalia Liana Cambiasi Negretti Liala nasce come scrittrice più o meno in parallelo a Paola Masino ma con termini ideali di pubblico ben diversi ovviamente nel 1931 con un romanzo famoso chiamato Signor Si in cui c'è una femmina bambola ovviamente bionda in cui Liala completamente si identifica la quale vive per l'uomo che la prenderà e la sposerà c'è un mito del principe azzurro fiabesco portato fino all'estremo del paradosso della follia il quale principe azzurro è tendenzialmente quasi sempre un aviatore una figura positiva del regime un uomo che associa a un impegno più o meno prebellico una dedizione fascista e anche un aspetto scientifico quel nuovo principe azzurro per la giornata cenerentola di cui Liala dà il racconto non che i romanzi di Liala siano meno irrealistici di quelli di Paola Masino ma il punto è il tono in Liala siamo in una fiaba lieto fine zuccherosa romantica le femministe degli anni 70 la contestavano come un rudere di un mondo fascista ancora rimasto in vita non si sapeva perché Paola Masino invece ha un elemento dalla sua che la rendeva così sgradita ai critici benpensanti e ai fascisti che era un umorismo selvaggio terribile nero l'esperienza fondamentale per Paola Masino nella sua vita a parte la frequentazione con Luigi Pirandello che reputava un secondo padre e che di fatto la accolse quando la Masino era un adolescente poco più aveva 16 anni e andò a proporgli questo dramma le tre marie quando Pirandello era ormai famosissimo come drammaturgo a livello mondiale e Pirandello ebbe attenzione per lei le disse di proseguire nella scrittura il teatro non fu la sua prima vocazione fu piuttosto il racconto e poi il romanzo e fin dai primissimi momenti della sua letteratura venne fuori un'opera letteraria scritta da una donna di inusitata violenza per l'Italia tant'è che non per caso fin dal primo momento molti critici stigmatizzarono l'opera della Masino come inusitata il punto era che Paolo Masino aveva accesso alla grande editoria per via del suo legame assai discusso e criticato con lo scrittore Massimo Bontempelli naturalmente in Italia una grande scrittrice eccentrica radicale e violenta deve essere sempre dalla critica del tempo considerata come favorita da una relazione con uno scrittore è naturale che queste accuse sciocche generiche le stesse che si sono fatte all'inizio della carriera di Elsa Morante che sarebbe stata sostenuta aiutata dal marito Alberto Moravia nel caso di Paola Masino escludono di vedere la realtà la realtà è quella di una simbiosi assoluta Bontempelli è il fondatore del realismo magico in Italia scrive romanzi taglienti durissimi come La vita operosa e in questi libri in cui parla della realtà come se fosse una favola di Giorgio De Chirico era poi uno dei suoi più importanti corrispondenti in una sensazione d'arte a tutti gli effetti Paola Masino è di per sé naturalmente in questo stesso modo di pensare quindi una rappresentazione fortemente grottesca con personaggi trasformati in automi robot personaggi che sono manichini da teatro esattamente come quelli delle opere di Giorgio De Chirico che fu legato a Bontempelli fortemente che anche Paola Masino a lungo frequentò quindi di per sé se nelle lettere italiane noi avevamo avuto donne socialiste donne anarchiche come Leda Raffanelli che nel 1918 propagandava la chiusura delle scuole ritenute una sfera propria fonte di potere conservatore piuttosto che dopo il 1922 affermava che bisognava ricorrere alle bombe per estirpare la tabe fascista e certamente anche queste figure avevano avuto attacchi di ogni tipo come anche attacchi aveva avuto Sibilla Leramo quando nel suo romanzo femminista capitale una donna e siamo all'inizio del secolo 900 aveva affermato un contenuto urticante aggressivo intollerabile per l'epoca quello che una donna che ha un marito che la castra la opprime può ribellarsi a lui e abbandonare anche il figlio che ha generato con lui e naturalmente questo sabotaggio del ruolo della madre per la cultura italica così fortemente cattolica all'inizio del novecento era un gesto rivoluzionario fino all'estremo ma lo humor nero di Paola Masino aggiunge un'ulteriore caratteristica urticante per una scrittrice e naturalmente il termine che la stampa fascista farà passare per lei è quello più dispregiativo possibile è scribacchina i critici fascisti di stretta osservanza diranno che la Masino pubblica solo perché l'accompagna di Bontempelli e peraltro la cosa è complessa anche perché Bontempelli ha molti anni più di lei quando i due si mettono insieme e la famiglia di lei che è una famiglia comunque con un padre funzionario al Ministero dell'Agricoltura una madre di origine nobile una sforza i quali si trovano molto in imbarazzo per questo gesto molto risoluto della figlia alla fine Bontempelli e la Masino vivono prima in esilio da Roma a Frascati in Campania e poi vivono a Parigi dove la Masino può fare alcune delle sue esperienze estetiche fondamentali che poi saranno importantissime anche per la sua opera in prosa e peraltro Nascita e Morte della Massaia è evidente che risente anche del surrealismo che la Masino incontra subito a Parigi di prima mano non vedendolo o sentendolo riportato nelle riviste italiane dell'epoca dove il surrealismo a parte alcuni casi vedi prospettive rivista molto dell'avanguardia e del cursio ma da parte era stato molto silenziato perché appunto è chiaro che il surrealismo racconta i tre punti cardine del fascismo Dio, Patria e Famiglia il film che le cambia la vita è Les Scenes Andalus di Louise Buñuel che lei vede in prima assoluta la prima serata che fu uno scandalo enorme a Parigi nel 1928 e lei dice alcune femmine svenivano alcune donne dell'alta società scappavano dicendo che era una scenità o una vergogna che questo film si desse e lei dice per me è stata un'esperienza estetica fondamentale e non siamo tanto lontani dal nascita e morta della massaia perché in realtà il gusto è quello appunto di una rappresentazione di una quotidianità borghese fatta di salotti fatta di icone del feticismo borghese per la comodità che vengono completamente criticati dall'interno corrosi dall'acido micidiale dello humor nero e d'altra parte lo humor nero è una delle armi principali del surrealismo andré Breton proprio fece una antologie de l'humor noir che spiegava come la convenienza borghese per la comodità il decoro il patriotismo si potesse rovesciare con l'acido dell'umorismo e come certi autori fossero stati più rivoluzionari anche di altri che derivano a un movimento politico a un credo filosofico ritenuto più radicale perciò nel momento in cui Paola Masino giunge a nascita e morte della massaia è anche in una fase che per lei è estremamente peculiare della sua produzione perché di fatto Paola Masino scrive romanzi che hanno grande eco in Italia sia positivo sia negativo per un tempo molto breve in totale 15 anni poi vivrà molto a lungo perché vivrà fino alla fine degli anni 80 avrà occasione di qualche revival ma a tutti gli effetti non avrà mai più il desiderio di scrivere un altro romanzo perché riterrà che il pubblico per cui di fatto lei pensava che questa sua opera fosse possibile e avesse un dialogo quindi quest'opera con il pubblico che lei aveva immaginato in realtà con il dopoguerra era completamente terminato il linguaggio Nascita e morte della massaia è un linguaggio alto il gioco è quello di una continua messa a confronto tra un linguaggio altissimo e anche la volgarità della vita quotidiana gli elementi più bassi più sceni più aggressivi ma a tutti gli effetti dopo che Paola Masino pubblica nel 1947 sempre da buon piano un volume di poesie assai interessanti ritiene la scrittrice che non ha più da scrivere romanzi che non trova più un pubblico in una tempera che è completamente diversa da quella della teleguerra e quella del neorealismo bisogna parlare di drammi sociali di drammi politici di cose esplicite Paola Masino adora le allegorie le metafore il discorso complesso la poesia in prosa tutto quello che durante il neorealismo non andava di moda non è solo il suo problema è quello di molti scrittori degli anni 20-30 che avevano usato appunto tutto il gioco della metafora e dell'allusione perché sotto il fascismo era uno dei pochi modi di poter esprimere dei contenuti urticanti anche Montempelli che pure aveva aderito al fascismo era stato poi emarginato in modo chiaro perché non era celebratore delle glorie dell'impero e mandato in un esilio più o meno dorato insieme a Paola Masino a Venezia anche se aveva avuto prima riconoscimento come accademico d'Italia l'Accademia d'Italia era la massima istituzione del fascismo in riferimento alle arti e alla letteratura contemporanea ma a tutti gli effetti quando Montempelli vive con Paola Masino a Venezia in questo palazzo così importante il palazzo delle figure un palazzo quindi rinascimentale di proprietà del governo è proprio lì che Paola Masino capisce bene o male l'incubo e la prigionia della Massaia anche perché i due prima avevano sempre vissuto in menage bohemian scappando da un luogo all'altro perché la loro convivenza era molto irritante per l'opinione pubblica dell'epoca e in questo punto a Venezia sono assolutamente una coppia che debbono affrontare via via che c'è la guerra tutte le restrizioni le limitazioni la mancanza di cibo la mancanza di comodità che sempre più si diffonde e chiaramente a quel punto Paola Masino deve gestire il menage familiare cosa che non aveva mai fatto per cui non aveva mai avuto nessun interesse né tantomeno alcuna vocazione e per questo motivo lei capisce la prigione della Massaia proprio perché deve confrontarsi con le domestiche che non spolverano bene con queste attività quotidiane ossessive che non hanno mai fine mai soluzione che continuamente per quanto ci si possa dedicare con grande attenzione subito queste attività vengono poi distrutte c'è necessità di una pulizia anche il giorno dopo e quant'altro quindi non è un caso che in nascita e morte della Massaia questa figura epica della casalinga che è completamente fuori dall'immagine del fascismo per la donna sia a tutti gli effetti una specie di rivoltosa che proprio non per caso mette in discussione in primo luogo la pulizia ci sono degli scritti di Carlo Emilio Gadda che fu fascista per lungo tempo della sua vita fervente che odiava Paola Masino e quando uscì il suo primo romanzo Montegnoso che è di alimentazione toscana riferita alla località di Trammare e Montagna Montegnoso nella Lucchesia l'aveva insultata più o meno a mezzo stampa ma non tanto perché avesse qualcosa contro di lei ma perché era dentro questo romanzo tutto quello che lui detestava un riferimento alla metafisica di De Chirico personaggi trasformati in burattine e marionette o a Otomi una completa mancanza di empatia Paola Masino estremamente fredda e molto moderna per questa e oggi in realtà è molto più apprezzata recentemente nell'anno in corso Feltrinelli dopo molti anni ha ripubblicato Nascita e morte della Massaia che ha trovato l'agga eco sulle pagine di cultura perché il libro risulta oggi forse più in sintonia dopo il femminismo e non è un caso che ci sia stato proprio il femminismo ben o male ad aver recuperato quel libro che di fatto scomparve anche per volontà dell'autrice che non voleva più essere una romanziera se cimentò in altri campi e lì è interessante perché Paola Masino scrittrice dalla lingua così complessa così articolata seppe comprese avendo scelto di dichiararsi di sinistra dopo il 1945 che il campo in cui avrebbe dovuto impegnarsi era il giornalismo ma soprattutto un giornalismo ben specifico la posta del cuore confidatelo a Paola su Vie Nuove che era una rivista di sinistra molto importante per la cultura fu un evento perché all'epoca la posta del cuore si reputava un territorio borghese o anche fascista comunque un modo di esprimere i valori più canonici e tradizionali della società invece lei parlava esplicitamente di temi molto complicati che all'epoca in Italia non si sopportavano negli anni 50 ossia ad esempio il possibile convivere insieme di due persone senza sposarsi ricordiamo che essere ragazza madre in Italia era reato fino al 1957 di fatto quello che lei ha fatto ha anticipato altre figure femminili importanti anche del giornalismo italiano che hanno tenuto conto del suo esempio come ad esempio Camilla Sederna o come Brunelle Gasperini che ha gestito la posta del cuore più rivoluzionaria negli anni 70 parlando di aborto divorzio in un mensile femminile con temi e toni veramente violentissimi e Paola Masino ha saputo andare in quella direzione peraltro comprendendo anche altra cosa a cui forse la portava anche il suo considerare tutta la realtà come un grande teatro di icone e simboli il potere della moda negli anni 40 c'erano firme di moda importanti in Italia la più importante era ovviamente Irene Brin che era gallerista con la galleria all'obelisco scrittrice di moda per Harper's Bazaar a New York e per tutte le testate italiane ma era anche una scrittrice di straordinaria finezza e Irene Brin parlava della moda del Made in Italy che nasceva della Sala Bianca al Palazzo Pitti nel 51 per parlare dell'Italia dopo la guerra ferita che si stava cambiando di identità e che tramite la moda l'arte lo spettacolo il cinema riusciva a scrollarsi di dosso l'immagine di fascismo perciò Paola Masino lavora anche nella moda cioè addirittura progetta una rivista di moda che non riuscirà a portare in porto per questioni di costi che si chiamava Ala di cui rimane il Menabò nel 1948 completissimo in cui comprende esattamente come la moda sia un modo di raccontare la società che va più in profondità di quello che senz'altro avrebbe all'epoca considerato la sinistra in un'epoca di moralismo quando notoriamente se Nilde Iotti compagna di Palmino Togliatti si metteva un tailleur più o meno delle sorelle Fontana per un evento importante politico veniva attacciata di essere civetta dai militanti del partito o di essere fuori luogo perché indossava dei simboli borghesi quando la donna comunista avrebbe dovuto più o meno avere dei look di tipo sovietico quindi Paola Masino che con Bontempelli decisamente si sposta a sinistra peraltro entrambi al tempo di Salò erano stati costretti a fuggire a nascondersi da amici a Roma anche perché Bontempelli era stato indicato da Lorenzo Pavolini il ministro di Salò la bestia di Salò l'assassino e quant'altro come persona da fucilare e Paola Masino come da deporare quindi i due sono stati aiutati da sferiati amici romani che li hanno protetti e salvati ma poi Bontempelli come molti che non erano stati antifascisti alla prima ora avevano maturato la propria posizione nel corso del tempo quando si era candidato a sinistra in un partito vicino al PCI nel 1948 era stato poi ostracizzato da molti che avevano detto che era una conversione tardiva postuma in cui non credere quindi per queste figure che erano state critiche sotto il fascismo eppure anche con legami forti con figure importanti del regime e che dopo erano passati malgrado di essere stati anche perseguitati verso sinistra il destino era stato decisamente molto complesso Paola Masino lavorando nel giornalismo e in questo giornalismo anche Minuto dove le grandi intellettuali sovente potevano trovare potevano trovare uno spazio veramente alternativo alla comunicazione perché era uno spazio che gli scrittori maschi non volevano abitare per nessun motivo era ostracizzato considerato non importante per questo la posta del cuore è un luogo in cui molte scrittrici e giornalisti importanti che hanno poi fatto hanno lasciato il proprio segno in tutt'altro ambito pensiamo a Camilla Cederna hanno fatto le loro prime possibili vie un atelier aspesi perché era un modo come dire non troppo controllato non troppo vigilato l'autorità costituita culturale per poter esprimere una propria visione anche su temi apparentemente frivoli in realtà più complessi e più articolati Paola Masino nel frattempo scrive degli appunti continui tutti i giorni dal 25 alla morte negli anni 80 che ha studiato lungamente Beatrice Manetti una delle studiosi più importanti di questa autrice che ne ha fatto un'analisi molto approfondita una ventina di anni fa in un libro importante l'edizione dell'Orso e quello che accade in questo suo continuo scrivere appunti è che Paola Masino dopo il 45 dichiara la sua sterilità il suo non poter più scrivere dei romanzi perché non sa più chi è il suo pubblico peraltro nel 1960 muore Bontempelli e lei troverà un altro suo ruolo pubblico nel votarsi all'opera di Bontempelli ne curerà l'opera integralmente si darà da fare per fare degli eventi pubblici in tutta Italia dove si potranno discutere le opere di Bontempelli intercetta un critico letterario importante del grande storico della letteratura della nuova generazione Luigi Baldacci con cui farà l'edizione delle opere sostenendo il valore di un autore che era tutto da riscoprire che ancora oggi lo è per quanto abbia suscitato un'influenza enorme nel Novecento italiano che spesso non è stata riconosciuta da chi più lo ha copiato e a quel punto Paola Masino si adopera in altri territori scrive libretti d'opera a partire dalla fine degli anni Cinquanta ad esempio Vivì di Franco Mannino che hanno in scena al San Carlo in Cinquantasette fu un successo notevole e poi via via si occupa anche sempre di più di altri media perché poi di fatto il lavoro giornalistico è chiaro che negli anni Trenta Paola Masino con Bontempelli ha un tenere di vita alto negli anni si impoverisce sempre di più anche perché la sua opera per la sua stessa volontà non viene diffusa non viene segnalata c'è un evento importante perché nel 1970 un altro critico fondamentale italiano Cesare Garboli sostiene e patrocina la sua riedizione per Nascita e Morte della Massaia nel 70 con Bompiani che la ripropone con in copertina una magnifica opera di Alberto Savinio a quel punto la metafisica non è più contestata è considerata uno dei capitoli fondamentali del 900 mettere in copertina Savinio anche in quegli anni è stato fortemente riscoperto è un modo di dire che la Masino fa parte di una linea che è stata ostracizzata in Italia che è tutta da riscoprire e Garboli scrive questo testo importantissimo dove dice visto che questo libro esce nel 1945 quando c'è la lade di biciclette la rappresentazione che la Masino ci invita a vedere non è certamente quella di uno spaccato della vita quotidiana è bensì un grande teatro metafisico dove tutti noi aspetteremo Godot Paolo Masino anche in questo caso fa qualche intervista ma ancora non patrocina più di tanto la sua opera credo lo scrittore che nel novecento italiano ha meno sostenuto la sua opera a tutti gli effetti e poi però c'è un evento ulteriore perché nel frattempo dal settanta in poi c'è il mondo femminista le femministe cercano anche di capire quale può essere una loro genealogia italiana quali scrittrici siano state rivoltose quali scrittrici possono essere recuperate come madri nobili della loro rivolta e Paolo Masino a questo punto arriva nella sua giusta collocazione che è con la casa editrice della Tartaruga casa editrice fondamentale femminista diretta da Laura De Petit che a tutti gli effetti riesce veramente nel 1982 a riportare Paolo Masino all'attenzione vengono grandi interviste su Repubblica vengono grandi critiche letterarie di critici che dicono in una motrice tutta da riscoprire di fatto lei muore cinque anni più tardi e ha questo tardivo ritorno di interesse per la sua opera che ha senz'altro a tutti gli effetti anticipato una grande serie di studi ci sono varie studiose appunto come Margherita Ghilardi Beatrice Manetti che hanno scritto cose importanti su Paolo Masino o anche Marinella Mascia Galateria che ha fatto le edizioni di numerose opere recuperate e quant'altro ma a tutti gli effetti ancora Paolo Masino è considerato un'autrice un po' per addette ai lavori non è mai entrata nel vero e proprio canone principale degli autori italiani del Novecento nell'anno in corso 2020 anno se è complicato Feltrinelli ha pubblicato in una nuova edizione Nascita e Morte della Massaia con la bellissima fotografia di Ghitta Carell una grande fotografa mondana in copertina e ci sono state una serie di eventi in cui gli studiosi hanno riproposto anche altri suoi aspetti curiosi ad esempio questo legame fortissimo con gli artisti Paolo Masino è stata ritratta dai maggiori artisti italiani del Novecento Marino Marini Filippo De Pisis e quant'altro anche Mario Sironi e poi questa curiosissima collezione di carte da gioco che ha fatto dipingere dai maggiori artisti italiani ma anche da molti stranieri in cui Alexander Calder insieme a Corrado Cagli e quant'altri facevano queste carte da gioco dipinte che lei conservava e che recentemente sono state esposte a Palazzo Braschi al Museo di Roma dando anche il senso di una specie di rete enorme che questa scrittrice è così appartata aveva in tutto anche l'ambiente artistico dell'epoca peraltro Paolo Masino fu moltissimo in contatto con Federico Fellini per cui scrisse un progetto di sceneggiatura destinato a non andare in porto e la troviamo piuttosto sempre in sintonia con tutte le esperienze di un'epoca ad esempio con l'amica Alba de Sespedes altra scrittrice rivoltosa Nessuno torna indietro è un altro dei grandi romanzi non fascisti degli anni 30 accriticatissimo e anche apprezzatissimo proprio perché anche lì si rappresentano ragazze che non vogliono ubbidire al padre che non vogliono ubbidire al regime e le due insieme andarono a Cuba perché la De Sespedes era cubana di nascita come Italo Calvino e a tutti gli effetti era presente poco dopo che si era data l'indipendenza e la Repubblica quindi è una figura Paolo Masino che fino alla fine sia pure su toni molto separati molto distaccati molto amari questo continuare a dire che comunque non c'è un pubblico che la può seguire la morte di Bontempelli è un evento simbolico come se Bontempelli fosse stato comunque il suo pubblico principale il suo lettore fondamentale e lo stesso lei aveva fortemente patito quando era morto Pirandello che considerava il suo padre adottivo con Pirandello e Bontempelli Paolo Masino viveva l'estate a Castiglioncello in una villeggiatura che è stata fondamentale per la storia dello spettacolo italiano anche perché a Castiglioncello Pirandello ha scritto I giganti della montagna la sua ultima opera capolavoro incompiuta e Paolo Masino che faceva parte di questo entourage racconta di questa località che non era tanto mondana per questi scrittori ma un luogo di lavoro di giorno si lavorava e la Seaci si vedeva per una partita scopone per giocare alle bocce ma tutto in una dimensione anche di estrema collaborazione per cui Paolo Masino leggeva un pezzo del suo romanzo nuovo Pirandello leggeva un pezzo del suo testo teatrale e così via in questo luogo di vacanza naturalmente poi si sono determinate anche numerose vocazioni artistiche i nipoti di Pirandello erano Francesco Maselli regista di cinema e Titina Maselli oggi riconosciuta come uno dei più grandi pittori del dopoguerra è tutto un incrocio di destini in cui Paolo Masino ha anche scritto un testo esilarante sulla rivista mondana Sanremo intitolato C'è gente a Castiglioncello in cui si vede lei insieme alla musa e mai compagna di Pirandello Marta Abba che era un'attrice all'epoca negli anni 30 fondamentale che sfilano per andare verso la spiaggia con questi abiti assai sontuosi come pigiami palazzo dell'epoca tutti bianchi o di colore cru in questa immagine di una vacanza continuativa che poi di lì a poco ovviamente si interromperà con la guerra sono foto del 1934 1935 per cui alla fine Paolo Masino a tutti gli effetti prima di morire ha un riconoscimento importante e ci sono anche appunto studiosi come Marinella Mascia Galateria che le si vuotano già dall'epoca fa in tempo a incontrarla a parlarla a intervistarla e proprio questa curatrice e studiosa di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea che insegna la sapienza che ha ad esempio ripubblicato il suo primo romanzo Periferia per la casa di Tice Dipus qualche anno addietro che non si era mai più riproposto altro romanzo questo con i bambini che giudicano la realtà del loro mondo attraverso una visione impietosa crudelissima dei genitori che rileggerlo oggi è estremamente attuale di ragazzini terribili bambini che non aspettano e non accettano l'autorità si parla anche troppo oggi naturalmente di cosa sia l'autorità chi fa obbedire se stesso tramite quale mezzo digitale o meno è questo un argomento attuale che nella visione di Periferia romanzo del 1931 33 si dispecchia perfettamente quindi a tutti gli effetti ci sono state mostre alla fondazione Mondadori a Milano ci sono stati libri che hanno analizzato il lavoro della Masino sul fantastico sul grottesco ma a tutti gli effetti dovrebbe essere una scrittrice più nota perché Nascita e Morte della Massaia oltre a essere un libro molto divertente è veramente uno dei testi più femministi del Novecento Italiano non perché la Masino fosse femminista in senso canonico o si riferisse alle maggiori ideologhe del movimento ma perché vi è una critica così radicale del modello di rappresentazione della donna e la società italiana come mai si è dato prima e forse neanche dopo neanche in epoca di femminismo naturalmente questo è in una prosa che non è di oggi non è nostra che volutamente vuole distanziare più che sia possibile il lettore e porre il dialogo in una dimensione metafisica astratta Ugo Ietti che era un critico importante molto fedele al regime amico di Mussolini un maestro pensier che dava il senso di un'epoca quando uscì periferia disse che non si capiva come questi bambini potessero parlare così difficile ma diceva Paolo Masino i miei bambini non parlano difficile sono semplicemente espressione di una visione del mondo che è la mia ma c'è la loro infanzia nella mia lingua e l'infanzia naturalmente è il grande agente critico quello che permette di dire le cose senza peli sulla lingua di poter criticare l'autorità costituita Dio, padre e famiglia dicendo cose veramente molto violente molto pesanti e anche ribaltando completamente il sistema delle aspettative per la donna che nel matrimonio aveva il proprio fine il proprio scopo che fosse quello di appartenenza o di riproduzione e che poi naturalmente invece nei romanzi di Lamasino viene sempre completamente scardinato poiché la donna decide che fa altro che si muove in altra direzione forse Paolo Lamasino ha anche interrotto la sua attività di romanziera con Nascita e Morte nella Massaia perché a tutti gli effetti questo romanzo così lavorato così elaborato è anche il punto d'arrivo estremo di questa prosa che con il mondo neorealista era come se diventasse sia pure a distanza di pochi anni dalla sua scrittura una specie di oggetto archeologico infatti è stato più il tempo dagli anni 70 in poi che ha permesso di apprezzare questa violenza che si struttura in una prosa apparentemente così ferma così solida ma che alla fin fine è una violenza terribile che agisce e che non rispetta nessuna linea canonica di fatto molti dei critici fascisti dicevano a Paolo Lamasino per svilirla oltre che era soltanto la compagna Bontempelli che le aiutava tipica accusa appunto maschilista italiana anche che in definitiva era solo molto bella e di sicuro una donna molto affascinante in tutti i suoi ritratti fotografici molto ben vestita l'interesse per la moda si nota nella sua immagine pubblica e c'è anche proprio nell'uso della moda che lei fa in tutta la sua immagine pubblica una provocazione continua perché la sua prosa così violenta sembra quasi essere scollata dalla sua rappresentazione di donna comunque borghese con dei begli abiti e quant'altro ma lei dice che in definitiva anche i suoi abiti debbono essere interpretati è come la prosa che scrive nascondono una violenza sotto di comportamento che deriva dal fatto che Paolo Lamasino aveva avuto un'educazione insolita per l'Italia non andando bene in alcune materie all'iscio classico aveva chiesto ai genitori di poter uscire dalla scuola non aveva mai compiuto gli studi si era formata da autodidatta leggendo tutti i libri proibiti la possibilità di un'istruzione alternativa a quello che la scuola del tempo suo le avrebbe dato è una linea importante che concorre anche in altre scrittrici italiane come Sibilla Leramo che avevano potuto o per scelta dei genitori o per casi della vita avere un'istruzione diversa da quella che forse le sarebbe stata impartita e tutto alla vita di Paolo Lamasino e bene o male nella confutazione di tutta una serie di aspettative verso il suo ruolo quindi naturalmente c'è nella sua opera una vera e propria forma di contestazione radicale selvaggia come la massaia che sta chiusa nella sua scatola baule piena di sporcizia di ogni tipo la quale non vuole crescere e c'è proprio come in periferia un appello all'infanzia come luogo della libertà vera luogo che non può essere irregimentato condizionato da niente e da nessuno né da un regime né tantomeno da delle aderenze sociali né da delle aspettative borghesi e perciò naturalmente c'è anche un continuo gioco molto forte rispetto a cosa debba essere un ruolo e quanto questo ruolo si possa trasgredire di fatto non per caso l'ispirazione principale oltre a Bontempelli uomo della sua vita per Paolo Lamasino era stato Luigi Pirandello nessuno più di Pirandello aveva messo in discussione la borghesia italiana e tutte le sue istantie muffite concrezioni del pensiero come è noto di fatto Pirandello aveva dato una scossa elettrica al mondo borghese italiano che spesso l'aveva criticato e rifiutato basti pensare che al momento dei sei personaggi in cerca d'autore al Teatro Valle a Roma il pubblico urlava in buona parte manicomio manicomio e che quando si rappresentò il piacere dell'onestà straordinaria commedia delle parti dei ruoli che si invertono con Ruggero Ruggeri a Torino Antonio Gramsci il critico più radicale che vide Pirandello in quell'epoca disse Pirandello fa scoppiare delle bombe a mano nel cervello perciò è come se si desse in questa devozione pirandelliana una matrice importante di Paola Masino e Bontepelli era per Pirandello negli ultimi anni l'amico più caro il confidente letterario più importante è come una Trimurti Pirandello Bontepelli Masino di cui Pirandello è nel canone letterario italiano Bontepelli è il più grande autore poco noto italiano del Novecento che ogni tanto si ripropone ma non è ancora stato recuperato integralmente e lei è quella che è stata più appartata anche per le sue scelte di vita decisamente controcorrente che non l'hanno portata troppo in evidenza negli ultimi anni Paola Masino è tornata diciamo al mondo editoriale come traduttrice dal francese dagli anni Sessanta in poi traducendo molte opere importanti con versioni molto belle come ad esempio La Princese de Cleve di Madame de Raphaët che è una storia di eros sadismo e devozione che è del tempo barocco di nitore geometrico in cui si sente molto un gusto della costruzione geometrica che è non lontano da quello che lei praticava nella sua prosa tre romanzi principali Monte Ignoso Periferia e Nascita e Morte della Massaia e anche numerosi racconti che pubblicava spesso su giornali e riviste letterarie e uno che assolutamente la fece bandire per oltre un anno da qualsiasi attenzione sulla stampa fascista che si chiamava Fame Fame va citato per ultimo perché è un po' la sintesi di tutta la sua opera un racconto terribile siamo in una casa in un luogo di montagna c'è il gelo un padre ha due figli e nella stanza accanto c'è la moglie appena morta di fatto distenti i figli hanno le mani coperte di geloni con i geloni che si crepano e sanguinano e non c'è niente da mangiare il padre dice ai figli che l'unica speranza di mangiare è andare in città a chiedere la lemosina quindi padre e figli lasciano la madre morta in questa tomba di ghiaccio e si mettono a camminare in un bosco gelato i geloni mandano sangue sempre di più la bambina dice che ha fame il padre la strangola e dopo lo dice anche il figlio e strangola anche lui e infine va al posto di polizia nella città dove giunge dopo lunga fatica dicendo se mi darete un piatto di minestra io vi racconterò un bel fatto ma a quel punto tale e tanta è la fame che non può più riuscire a mangiare un racconto terrificante sulla miseria in Italia negli anni 30 portata all'estremo a livelli più o meno di crudeltà kafkiana che la stampa fascista fece a pezzi reputando appunto Paolo Amasino una scribacchina una disfattista una donna frivola e mondana che si permetteva di parlare dell'Italia fascista considerata il luogo più perfetto del mondo in termini assai crudeli assai duri assai sgradevoli parlando di un mondo in cui la miseria era invece un fatto all'ordine del giorno perciò i racconti che non sono molti ma sono veramente molto belli molto preziosi Paolo Amasino è una scrittrice che non ha scritto molto in forma narrativa ma ha scritto moltissimo invece in forma giornalistica tra l'altro un suo libro sulla moda è stato pubblicato sempre da Marinella Mascia Galateria album di vestite ed è sorprendente perché è una serie di cronache di moda con tutte le stagioni le sfilate e quant'altro in cui dalle sfilate si ricostruisce quello che sta accadendo in quell'anno in Italia le crisi politiche la preponderanza statunitense i due blocchi USA-URTS tutto attraverso i vestiti album di vestiti è un libro uscito postumo e negli ultimi anni senz'altro c'è un grande ritorno di interesse che questa edizione da Feltrinelli Nascita e morte della Massaia si spera possa anche maggiormente sottolineare proponendo questa autrice notevolissima a una più ampia lettura questo racconto video su Paola Masino è legato al festival fuori luogo di Biella che non può avere luogo per i fatti del momento e il festival mi chiede di portare un saluto a chi vedrà questo racconto video e segnalare che il festival sarà spostato in presenza la prossima primavera nel mese di maggio da 14 al 16 in cui ci sarà l'occasione di poter incontrare gli scrittori raccontatori performer che fanno parte del festival dal vivo cosa che in questo momento non è possibile ma questo racconto è come un messaggio in bottiglia in primo luogo anche per comunicare un'autrice veramente rilevante a un pubblico il più possibile ampio che forse non ha mai avuto opportunità di poterla vedere frequentare leggere e che secondo me potrebbe avere un'occasione veramente interessante di scoprire un profilo forte scolpito di donne scrittrici del Novecento italiano poco propensa ai condizionamenti del mercato e delle mode o tantomeno del regime fascista e quasi sempre in grado di dare una propria visione tagliente assai severa anche spesso delle vicende della cronaca della realtà nella forma della favola della metafora e dell'allegoria e dell'allegoria e dell'allegoria